Ci siamo stupiti, veramente noi caldeggiamo molto spesso quello che è il portare in alto il nome di Partinico e ovviamente andare a Roma semplicemente una cinquantina di alunni di cui più di 20 sono di Partinico è stato veramente un momento di prestigio. È stato un momento molto bello e onestamente non mi aspettavo questa accoglienza così calorosa, molto bello. Intanto dobbiamo dire che abbiamo partecipato l'anno scorso al concorso Disegna l'Intelligence che è stato bandito dal Dipartimento del Consiglio della Presidenza e del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la sicurezza e l'informazione sulla sicurezza. È un concorso molto originale perché si chiedeva ai ragazzini di disegnare che cosa è la sicurezza, che come vedono questo sistema. E i ragazzini si sono cimentati a pensare che in effetti come si può rispondere alle minacce, diciamo. E oggi viviamo in un momento di incertezza, di preoccupazione. Ieri il direttore del corso, il dottore Scott e poi l'ambasciatore Massolo che ha presieduto la cerimonia di premiazione ha sottolineato come l'intelligence non è James Bond che vola sui grattacieli e fa saltare in aria i grattacieli rimanendo in leso, tra l'altro. Ma è un sistema in cui tutti i cittadini partecipano. Ecco, questo è il messaggio molto bello che viene fuori anche dai disegni. Cittadini che prendono coscienza che se dobbiamo tutelare gli interessi culturali, sociali, economici, industriali, dobbiamo darci una mano e stare attenti ai pericoli che vengono dai computer, che possono venire anche da attacchi chimici. Ma come? Prendendone coscienza e affrontando con responsabilità. La nostra Antonella che è stata una delle, sono state tre scuole in tutta Italia. Diciamo, ma diciamo le scuole di Partinico. Partinico è il nostro istituto Archimede Priviterra che ha partecipato con una diecina di disegni, tra i quali quello di Antonella Anselmo che ha ricevuto il premio. L'altra scuola, l'istituto comprensivo di Torre del Greco, provincia di Napoli, e l'altra scuola era l'istituto comprensivo di Sermide, provincia di Novara. Ci siamo trovate insieme i dirigenti, è stato un momento anche di confronto, di collaborazione. I ragazzi per un momento sono stati individuati come agenti segreti, hanno avuto pure il distintivo, il cappellino, insomma, e per un momento sono stati chiamati agenti di sicurezza. Dico, è stata una bellissima esperienza, ci hanno accompagnato, dico, dal momento del nostro arrivo a Roma fino alla nostra partenza. E io, dico, sono onorata di avere conosciuto intanto questa bella scuola per l'informazione alla sicurezza. E dico, portare nelle scuole anche questi temi, credo che sia anche, faccia parte anche di tutti i temi che attengono alla cittadinanza attiva. Antonina Anselmo, premia, è stato un momento bello. Bellissimo, non me lo dimenticherò mai. Che è successo? Allora, ci hanno premiato, hanno premiato la scuola, più che noi singoli, va, tutta la scuola. Ed è stato un momento indimenticabile. Poi non eravamo gli unici ad aver vinto, ma c'era anche un'altra scuola in provincia di Napoli, una a Mantova. E lì erano esposti tutti gli altri disegni vincitori. Poi abbiamo anche parlato con Massolo, che è il presidente proprio dell'intelligence, e poi anche con il pittore, che ha comunque giudicato i nostri disegni. Anche tu sei stata premiata? Sì, sono andata anch'io a Roma, però non sono arrivata prima, ovviamente, perché è arrivata lei. Però è stata comunque una bellissima esperienza. Sei emozionata? Sì, sì. Sei ancora emozionata? Sì. Allora, ho voluto personificare l'intelligence sotto forma di un agente segreto, sotto forma di detective, che oltre ad utilizzare il proprio intuito e la propria intelligenza, utilizza anche delle nuove tecnologie. Infatti, nei suoi occhi c'è un marchi ingegno tecnologico, robotico. L'ho voluto rappresentare sopra il mondo perché l'intelligence c'è, anche se non lo vediamo. In questo momento lui sta cercando degli indizi, ma allo stesso tempo ci protegge tutti. Grazie a questo concorso ho anche imparato come la scuola vuole darci tantissime opportunità per il nostro futuro, che ci vuole insegnare tantissime cose importantissime, e dei valori che non dimenticheremo mai, come il valore della libertà, della sicurezza, in questo caso, e della democrazia.